Dopo diversi mesi di lockdown, anche per i nostri campionati, i tanti appassionati di calcio a 5 e calcio a 8 finalmente possono ripartire, salvo imprevisti dell'ultimo momento. Però noi della E-Like non siamo rimasti fermi. In questi mesi abbiamo continuato a lavorare, abbiamo continuato a spremere il nostro cervello per creare nuove idee, per rendere il campionato sempre più interessante. Il 14 di settembre riniziano tutti i campionati, sia di calcio a 5 maschile e femminile, e di calcio a 8 sia nella provincia di Pesaro che nell'entroterra e nel Fanese. Immaginiamo che le location che hai coinvolto siano tantissime e stare qui a enumerarle facciamo notte. Esatto, siamo 2000 tesserati in totale, un centinaio di squadre tra calcio a 5 e calcio a 8, quindi i numeri sono pazzeschi. Usiamo, no è brutto il termine, ma coinvolgiamo 20 impianti sportivi, quindi insomma un numero veramente importante dove tanti appassionati passano il loro tempo divertendosi, però con agonismo, perché poi comunque sia, è un campionato a tutti gli effetti, con promozioni, retrocessioni, play-off, play-out, quindi si sono veramente immedesimati, come se fosse un campionato federale, normale. Cristian, a proposito del campionato federale, siete affiliati a qualche associazione sportiva, a qualche... la PGS mi sembra, no? Noi siamo dell'ente promozionale PGS, Polisportiva Giovanile Salesiane, che ci seguono da sempre, da quando abbiamo iniziato, nel lontano 2010, quindi... Ricordo bene. Esatto, infatti abbiamo iniziato un po' insieme l'avventura con PGS, e la nostra unione continua sempre più forte, perché poi cominciamo anche a organizzare anche altre cose al di là del calcio, e quindi siamo contenti di continuare con PGS. Se qualche ritardatario volesse iscriversi, come deve fare? Allora, le iscrizioni sono aperte già da qualche settimana, però ancora sono aperte e rimarranno aperte fino alla settimana prima dell'inizio del campionato, quindi il 14 di settembre inizieranno i campionati, fino al 7-8 di settembre chiaramente non diciamo no a nessuno, anche perché ne abbiamo ancora tante in sospeso di iscrizioni, e vorremmo accontentare tutti perché più squadre ci sono e più il divertimento è assicurato. Ecco, chi lo volesse, chi deve però contattare, dai pure dei numeri, eccetera. Allora, il sito è www.ilikebox.it, c'è da scaricare anche l'applicazione ilikebox, è completamente gratuita, troverete lì tutte le informazioni, se no contattate direttamente a me, che sono il responsabile del calcio a 5 di Pesero e di Fano, al 347 85 98 199, e anche comunque per il calcio a 8 potete tranquillamente contattare a me. Grazie Cristiano, un grandissimo in bocca al lupo per l'organizzazione, che vinca il migliore come sempre. Sempre, grazie a voi, grazie per la bella sorpresa.